Altro giro, altro itinerario. La Confcommercio Pesaro Urbino ha tirato fuori dal suo prolifico cilindro un altro percorso turistico nato da una costola dell'ormai tradizionale itinerario della bellezza. Si chiama Itinerario delle Rocche, ideato e sviluppato a partire dalle opere dell'architetto del 1400 Francesco Di Giorgio Martini. Questo architetto militare senese che nel 1474 Federico da Montefeltro chiama a completare il palazzo Ducale contestualmente però affida a questo architetto il compito di fortificare per difendere il suo Ducato e questo architetto con spirito innovativo e con una capacità che probabilmente era rimasta inespressa negli anni precedenti perché nasce come pittore, scultore, realizza oltre 130 opere sul territorio tra fortificazioni militari, palazzi civili e religiosi e lungo l'itinerario della bellezza ci sono molte di queste opere che sono state realizzate. Per questo noi abbiamo pensato di creare un itinerario turistico che mette in rete le fortificazioni militari, le rocche che Francesco Di Giorgio Martini aveva creato. Un progetto la cui promozione passerà anche attraverso i media locali e nazionali ma sono tante le idee in cantiere per riportare i lavori di Francesco Di Giorgio Martini agli onori delle cronache. Uscirà ad esempio nel mese di febbraio uno speciale su Bell'Italia dedicato proprio alle rocche di Francesco Di Giorgio Martini ma realizzeremo anche una mostra itinerante con dei modelli di rocche realizzati da Francesco Di Giorgio Martini uno di questi, l'ultimo che non c'era, è quello proprio relativo al torione della rocca di Cagli che abbiamo commissionato alla facoltà di ingegneria del Politecnico di Ancona. In più abbiamo anche la possibilità e la volontà di realizzare insieme a queste mostre un progetto molto importante, un progetto europeo per creare qui a Cagli un centro internazionale di studi legati a Francesco Di Giorgio Martini. Ci sono già i contatti in tal senso con i frati che gestiscono il convento realizzato proprio sopra la rocca di Francesco Di Giorgio e abbiamo chiesto anche la collaborazione di un'azienda molto importante a livello internazionale che è qui di Cagli, la Stark, per la realizzazione di alcune installazioni multimediali che speriamo anche oggi di poter vedere. Un'iniziativa ad ampio raggio dunque per i comuni aderenti, un'importante assist per la valorizzazione delle proprie risorse storiche, artistiche e architettoniche. Diciamo che per noi la rocca e il torrione di Francesco Di Giorgio Martini sono i nostri fiori all'occhiello e rappresenta proprio il simbolo della città di Cagli, valorizzato attraverso questa iniziativa della Confcommercio e in più si aggiungerà in quest'anno, nel 2021, quindi nel prossimo diciamo, si aggiungerà la possibilità di percorrere dal torrione che si trova al centro della città i 360 gradini che usciranno proprio su alla rocca dove ci sarà un restauro della stessa in quanto distrutta nel 1500 dal Guido Baldo proprio per non permettere che il Valentino la potesse prendere insomma, quindi bellissimo progetto, incentiverà quello che era già il nostro ulteriore progetto di riapertura del soccorso coverto.